Giovedì 26 luglio a partire dalle 9.30 si terrà per la prima volta d'Avellino alla cerimonia di laurea dell'Università Telematica Pegaso. Nella splendida cornice di Villa Solimene a Collina Liguerini saranno ben 43 gli studenti che presenteranno la propria tesi di laurea. Tante le facoltà coinvolte in questa seduta, giurisprudenza, ingegneria civile, ingegneria della sicurezza, scienze dell'educazione, scienze pedagogiche, scienze motorie, menangiamento dello sport, economia aziendale, scienze economiche. Sarà praticamente tutta l'offerta formativa dell'Ateneo Telematico a segnare una data storica per la nostra città che vede per la prima volta la formazione universitaria concretizzarsi a suo massimo livello con la seduta di laurea. L'atto finale di un percorso di studi che diventa punto di partenza per la propria crescita personale e professionale. L'alto numero di studenti coinvolti in questa sessione e l'ampio ventaglio di professionalità diverse che saranno acquisite dai neodottori testimonia ancora il buon nome che l'Università Telematica Pegaso e la sede d'esame di Avellino hanno saputo conquistarsi in città in Irpinia grazie alla serietà dell'offerta e alla professionalità dei propri interpreti. Una soddisfazione in più per il capoluogo irpino che finalmente riesce ad assumere un'importanza universitaria all'interno del panorama scolastico italiano con tutto quanto ne consegue in termini di prestigio e di qualità del vivere in città. Un appuntamento importante dunque non solo per gli studenti e le famiglie dei neodottori ma per Avellino intera da giovedì prossimo a vera e propria città universitaria.